gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia clemente mastella una vecchia conoscenza adesso sindaco di benevento da una multa a matteo salvini leader della lega di ben 600 euro perché era senza mascherina e dice qui a benevento c'è un solo contagio ora paghi 600 euro perché con questa pagliacciata ha messo a rischio la salute di tanti cittadini la legge si rispetta dice mastella lui è un cattivo esempio e fino a due mesi fa benevento era covid free come si dice libera dalla malattia dice oggi abbiamo un solo contagiato e non succede per caso perché c'è stato un grande impegno da parte di tutti i cittadini per questo è stato doveroso multare matteo salvini così mastella dopo una lunga carriera in politica a roma e dopo non so se vi ricordate quello che è successo tutto quello che si è detto intorno a questa persona diciamo che fa parte della vecchia politica di un certo tipo di politica non so se vi ricordate si diceva che lui abita in cima a questa collina dove c'era la processione di persone che andavano a chiedergli un aiuto un favore questo ricordi del passato insomma un tipo di politica chiamiamola da film in bianco e nero no ecco ma è lui adesso comunque rimane in politica è sindaco di una cittadina abbastanza grande e il giornalista gli chiede a quanto ammonta questa sanzione perché lui il mastella ha chiesto ai vigili urbani di cercare tutte le immagini su internet riferenti che si riferiscono a quella manifestazione a quella quel comizio elettorale di matteo salvini dove molte persone hanno fatto i selfie con lui senza mascherina e quindi dice adesso con su internet andremo a cercare tutte le immagini sulle pagine del politico cioè di matteo salvini e rintracceremo tutte queste persone e le multeremo la sanzione ammonta a 600 euro ma dice questa non è una decisione politica il sindaco è il primo responsabile della salute dei cittadini è doveroso multare chi non rispetta la legge salvini è stato molto arrogante abbiamo stabilito luoghi e regole per fare campagne elettorali in sicurezza ma lui se ne è fregato di tutto il giornalista chiede ma lei mastella è un politico di lungo corso perché rispetto al virus c'è un approccio diverso tra destra e sinistra e voi vedete che già questa questa domanda è faziosa fatta da un giornalista fazioso di un giornale schierato a sinistra perché secondo voi un giornalista non schierato potrebbe dire perché c'è un approccio diverso al virus tra destra e sinistra come se la destra fosse negazionista e la sinistra fosse responsabile vi rendete conto della bassezza di questo tipo di giornalismo però io vi riporto quello che è questa intervista a mastella e mastella almeno intelligentemente risponde non dà corda al giornalista perché poteva magari assi la destra negazionista che è una frottola ovviamente almeno in questo mastella intelligentemente risponde questo virus non è né di destra né di sinistra di certo il negazionismo come vediamo negli stati uniti quindi ha amplificato oltremodo questo dramma certo c'è una una grande fetta della popolazione che è negazionista pensa che tutto sia architettato chissà per quale oscuro piano c'è anche chi è arrivato che è molto divertente a dire che questa malattia è stata inventata dal mondo per farci firmare il mess ecco questo potrebbe essere un po il live motive del negazionista quello di dare delle delle interpretazioni assolutamente fantasiose no e il governo lo fa per controllarci c'è dietro un piano per ridurre la popolazione se ne sono sentite di tutti i colori ma il negazionismo non c'è solo su questo il negazionismo c'è su tanti altri fatti della storia che vengono modificati dai negazionisti ma senza nessun tipo di base logica scientifica o reale sono dei fatti completamente inventati secondo me è così ma senza quel secondo me dietro non c'è non ha nulla il giornalista chiede ma salvini è un negazionista no altra domanda faziosa e lui dice è un politico oltre ad amministrare un politico oltre ad amministrare deve educare salvini è un cattivo esempio ripeto a benevento abbiamo un solo contagio chi mi assicura con quella pagliacciata di gruppo non ce ne siano stati altri e dice ma a benevento si è fatto qualcosa di particolare contro questa malattia dice ho fatto il mio dovere tutti hanno il mio numero di cellulare in tanti si stanno facendo i tamponi tornati dalle vacanze e laddove la asla non riesce a rispondere a così tante richieste ho anche provveduto a livello personale con strutture private tra poco si voterà in campania benevento è in campania lei dopo una lunga carriera nel centrodestra appoggerà vincenzo de lucca del pd come andranno le elezioni e lui dice ce la faremo salvini al sud non sfonda più è venuto qui si è messo la maglia del benevento e ha fatto arrabbiare tutti poi è andato a crotone e ha fatto altrettanto rispetto a umberto bossi con cui ho fatto liti epocali salvini è un pigmeo della politica beh ma stella ovviamente si vede il suo odio contro salvini ma è un odio che hanno che hanno in molti quell'odio rancoroso e questa volta però ma stella ha beccato salvini in fallo nel senso che salvini che non è un negazionista salvini che sa perfettamente le regole del distanziamento che lo dice ai giovani tenete le distanze eccetera eccetera spesso ha questi comportamenti che risultano indifendibili e quindi ad esempio in questo caso Mastella gli dà una multa e vengono fuori dei titoli degli articoli di giornale dove mettono in mostra che salvini non ha rispettato le regole del distanziamento e questo non lo si può né nascondere e non lo si può neanche difendere perché questa è la realtà io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti